Il ruolo dell'intelligenza artificiale nelle informazioni elettorali, cosa devi sapere? L'uso dell'intelligenza artificiale per fornire informazioni sulle elezioni sta rapidamente cambiando il panorama informativo. Da un lato, l'IA offre vantaggi significativi, come un accesso semplificato alle informazioni per gli elettori, l'abilità di fornire aggiornamenti in tempo reale e la possibilità di personalizzare le informazioni in base alla posizione dell'utente. Ad esempio, strumenti come Perplexity Eye utilizzano modelli linguistici avanzati per raccogliere dati da fonti affidabili come Associated Press e Democracy Works, aiutando gli utenti a trovare facilmente informazioni sui requisiti di voto, le sedi elettorali e i profili dei candidati. Inoltre, l'IA consente la sintesi delle informazioni elettorali attraverso analisi dettagliate, offrendo agli elettori riassunti delle posizioni politiche dei candidati e delle misure in discussione. Questi strumenti possono rendere le informazioni più accessibili, soprattutto per i giovani elettori e per coloro che potrebbero non avere tempo per ricerche approfondite. La possibilità di ricevere aggiornamenti in tempo reale sui conteggi dei voti è un ulteriore vantaggio, che può migliorare il coinvolgimento degli elettori, poiché consente loro di rimanere informati sulle dinamiche della competizione elettorale. Tuttavia, ci sono anche diversi svantaggi e rischi associati all'uso dell'IA per fornire informazioni sulle elezioni. Uno dei problemi principali è la possibilità di incoerenze nella presentazione delle informazioni. Nonostante l'affidabilità delle fonti di dati utilizzate, i modelli di intelligenza artificiale possono presentare informazioni in modi che potrebbero risultare distorti o parziali. Ad esempio, la pagina di un candidato potrebbe enfatizzare determinati successi a scapito di altri aspetti della sua carriera. Questa potenziale distorsione può influenzare negativamente la percezione pubblica e la fiducia degli elettori nei risultati. Un altro rischio significativo è quello delle allucinazioni, cioè la generazione di informazioni false o forvianti. Anche se l'uso di dati da fonti riconosciute come l'API può ridurre questo rischio, non lo elimina completamente. In un'analisi condotta dal Reuters Institute, è emerso che molti chatbot, tra cui chat GPT e perplexity, hanno fornito risposte imprecise o fuorvianti a domande relative alle elezioni. Questo mette in evidenza l'importanza di un monitoraggio e di un perfezionamento costanti per garantire l'affidabilità delle informazioni fornite. Inoltre, l'uso dell'IA in contesti elettorali solleva preoccupazioni per la fiducia pubblica. La disinformazione è un problema persistente durante i periodi elettorali, e le piattaforme basate sull'IA devono affrontare il rischio di contribuire a tale fenomeno. Gli esperti avvertono che anche piccole inesattezze possono avere conseguenze significative, rendendo essenziale che gli elettori verifichino le informazioni da più fonti prima di prendere decisioni. Un aspetto positivo dell'uso dell'IA è la sua potenzialità di coinvolgere maggiormente gli elettori e supportare scelte informate. Attraverso interfacce intuitive e la capacità di presentare informazioni rilevanti e aggiornate, strumenti come perplexity possono facilitare l'accesso a informazioni cruciali, contribuendo a migliorare la partecipazione al voto. Quando gli elettori hanno accesso a informazioni chiare e affidabili, sono più propensi a partecipare attivamente al processo elettorale. Infine, è importante riconoscere che l'affidabilità delle informazioni generate dall'IA dipende dalla qualità delle fonti utilizzate. Sebbene collaborazioni con organizzazioni rispettabili possano migliorare la credibilità delle informazioni, è fondamentale essere consapevoli delle potenziali distorsioni anche all'interno di fonti di dati affidabili. Gli sviluppatori di strumenti di IA per le elezioni devono quindi dare priorità all'accuratezza, alla trasparenza e alla mitigazione dei rischi di disinformazione. In sintesi, l'intelligenza artificiale presenta sia opportunità che sfide significative nel contesto elettorale. Mentre ha il potenziale di semplificare l'accesso alle informazioni e migliorare il coinvolgimento degli elettori, è fondamentale affrontare preoccupazioni relative alla distorsione, all'accuratezza e alla necessità di verificare le informazioni. Solo attraverso un uso critico delle tecnologie basate sull'IA e un attento monitoraggio si può garantire che queste risorse contribuiscano positivamente all'integrità delle elezioni.